Buongiorno ragazzi, nuova giornata dal Kamara, in realtà è l'ultimo giorno oggi, mi sono appena svegliata Si vede, questa è la situazione, nel senso che c'è un vento e una pioggia fortissimi C'è una specie di tromba d'aria, non riuscivo nemmeno a dormire ieri sera dal vento tanto forte perché faceva un casino assurdo Non so se l'ho sentito E effettivamente siamo andate a vedere sul sito del comune e danno codice arancio So this means that we can still go out, but it's better if we don't Yeah, you can go outside, but there's just a lot of wind and a lot of storm So if you walk, you're still okay, but you have to be careful by bike and by car And yeah, you just need to be very careful because also the, what are they called, from the trees? Oh the branches? The branches, yeah Oh they can fall down They can fall off or that kind of thing, so you just need to be careful So in the rest of the Netherlands it's yellow, which is not that bad, but in the north here now it's orange Well, and then you also have red, but then it's really red Then it's when the trees fall on your house, like it happened to me So no Amsterdam today, we will just stay at home I will finish the video Yeah, me too No, we wanted to go to Amsterdam today, but with this time it's not really bad It's a shame, because it was the last day, we expected this day to go But unfortunately, with the orange code, it may be a little dangerous So let's go Sir Milo Sir Milo I'm decided, he doesn't know Sir Milo doesn't have time for you Yeah, Sir Milo is very busy today Go No Wait, I will pretend I'm going away, then we'll see Can you hear the window, Tim? He still doesn't care He's like, oh shit Milo! No, okay Oh my god Yeah They couldn't even sleep Welcome to the Lairland Hello Milo Hello Milo Oh, let's go So, basically What I'm going to explain is that when there is a yellow code, you can still get out of it But stay tuned Invece when there is a yellow code for the time It means that they can fall from the trees It means that they can fall from the trees To block the train Because they can fall from the trees Or when you walk, you can fall from the trees So you can't fall from the trees So it's not very much For coming out Hello Milo Good morning Good morning Good morning Pupetto Ciao Pupetto Sei già vestito? Dove siete stati? Non c'è una parte Oh no, per via del tempo no? Questa sarà la mia colazione e gli altri l'hanno già mangiato Io mi sono svegliata tardissimo E mangerò un po' di questa marmellata Con il pane E poi, altra cosa buonissima E' questa Che è tipo la Nutella Però è solo cioccolato Non è nocciola E mi piace quasi più della Nutella normale Che è buonissimo E poi un po' di succo d'arancia Nel frattempo sto caricando anche il video Che andiamo a programmare Per oggi alle 17.30 Cerco sempre di caricare alle 17.30 Se riesco A volte non mi riesce, sono tardissimo Però solitamente cerco di caricare Sempre alle 17.30 Eccolo qua, c'è il video con The Melza Impostiamo anche la thumbnail L'anteprima Eccola qua Mi fa troppo ridere questa anteprima È fantastica Ok Playlist Consigli ed extra Proviamo strani dolcetti olandesi O mettiamo snack Mettiamo snack Forse ha più senso Ok Anche questo è maiuscolo Voilà Ok Il video sarà online Andiamo a Posticiparlo Programmarlo 3 gennaio 17.30 Yes 3-17 minuti È già online Anzi 3-17 minuti Sarà già caricato E poi andrà online Alle 17.30 Vedete Io prendo le caramelle Per fare i video In cui provo Gli snack olandesi No E poi qualcuno Se le frega E le finisce Sono buone Ma guardalo Ma guardalo Ti sei mangiato tutto il pacco Vabbè che è riso soffiato Però insomma Non buone Facciamo scorta Portiamo a casa Potremmo No No Dove dobbiamo andare oggi Raccontaci dove vuoi andare Sembra che abbia smesso di piovere Quindi penso che possiamo uscire Qui non ho mai smesso di piovere Ah giusto Anche questo è vero In il frattempo mi sono messo lo smalto Bello Allora Oggi andiamo prima Nel negozio Che ho comprato ieri Pion di roba E vuoi cambiare il maglione? Vuoi cambiare il maglione Devo prenderlo con me infatti Ok Devo cambiare il maglione Dopo dobbiamo andare Nel altro negozio Che ti ha consigliato Demelza Che c'è roba carina Due nomi Non mi ricordo Friends and something Dojo Jones Friends and Jones Jack and Jones Guarda stai perdendo pezzi di riso ovunque Palatone Vai Tomas Grazie a tutti 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 Oh Stavano messi benissimo Quindi Li ho legati così Si vede il rosa Sii Cosa c'è A profetto mio Tomas è contento Perché va a cambiare il maglione Che non ti piaceva Che non si è reso conto Che era tutto bucato Perché non l'ha provato Perché è proprio Di moda Qui Tutto bucato Ah qui Solo qui Come non l'hai mai visto Scusatelo Viva nel 2002 Benvenuto nel 2017 Mai visto Mai visto Mai visto Mai visto Guarda che Sir Milo Sta pianificando Il tuo omicidio Guardalo Non so se andrà su o giù Guardalo Non sa Ti ucciderò nel sonno Stupido umano Io 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 Mi chiamo Mai Sir Milo Sir Milo E sono qua Vedete come Vedi La coda da sotto Sta ferma E dopo ogni tanto Ecco vedi E qualcuno sta indossando Il suo nuovo giubbotto Ah Facci vedere il giubbotto Show us the new jacket Oh yeah Un giro Ah Nice post Tomas Giro Giro Wow Very nice Very nice Now we're gonna do Some more Tomas 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 Is the only one That's shopping These days E' l'unico Che fa shopping E' lui Praticamente Ok Let's go Bye Vic See you later Bye Bye kids Bye kids Bye bye So what kind of brands Do they sell Givenchy C'è un negozio Che vende Marchi interessanti To be honest I'm not sure No more I know that I saw Givenchy Ok Like I said I only discovered This store Like L'ha appena scoperto Dove si sono appena trasferiti Quindi Deve ancora esplorare We've done a lot of shopping I was just walking by Let's see Andiamo a vedere Magari c'è qualcosa di interessante Riesco a capacitarmi Di quanto sia bellissima Alkmal E' veramente stupendo Questo posto Questo è il comune Mi diceva Qui si sposa Ci sono gli sposi Spesso qua davanti Che si fanno le foto Qui sulla scadinata Se fosse una chiesa Invece no Ma comunque E qui stiamo andando Verso il negozio Dove Tomas Vuole cambiare il maglione Siamo così arrivati Ma Una cosa Che volevo farvi vedere E' l'outfit di oggi Probabilmente avete già visto C'è la pellicetta Che mi ha regalato Il momento MASH Che adoro Quindi la metto sempre Poi ho Il maglioncino Quello di Gucci Tutto colorato Jeans strappati alle ginocchia Se non mi tirano sotto Prima con la macchina Jeans strappati alle ginocchia Che ho preso Indovinate dove Indovinate dove Da ASOS E poi Le scarpe Sono anche queste Di Gucci E oggi Ho il mio zainetto Chanel Si Era da un po' Che non lo usavo E quindi oggi Ha fatto la sua comparsa Di nuovo Stanno piacendo un sacco Comunque questi capelli rosa Molto contenta Ah ok Siamo arrivati Al negozio Dojones 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 Is on Wall Street Jack and Jones Dojones 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 Is like Quello Ci giochi in borsa Dai Sono i titoli in borsa Dojones Dojones They might die They might die They might die It's not true It's not true No They gave me Really They gave me A pullover For 17 euros Sì, buon discorso Sì, ma sono buoni persone Sì, sono Ok, adesso siamo alla ricerca di quest'altro negozio per Tomas Abbiamo trovato il negozio Jack and Joe's e adesso perderemo Tomas Bye bye Sì, sono carine Sì Stanno anche bene Stanno bene, sì Sono comode, provo a camminare un po' Sì, sì Prendile entrambe Sia marronica e nera, sono bellissime Sono veramente belle Entrambe? Hola Non importa Ma è una storia Vedete, è la palla di Alkmaar Credo che è... Sì Questi sono tutti i personaggi Eventi storici che rimandano praticamente a tutte cose successe ad Alkmaar o comunque in Olanda E ce ne sono un sacco un sacco lungo tutta la strada principale dello shopping Adesso stiamo andando verso il ristorante giapponese a mangiare sushi Sì 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 Siamo di nuovo nella piazza principale che è bellissima Nooo Allora già spento Nooo Queste casette sono bellissime Siamo arrivati al ristorante Che si chiama Motto Sushi Ristorante giapponese Japens Oh, è in tedesco? Japens Ristorante giapponese Sì 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 Che carino che è il logo e il simboletto del ristorante Sì 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 Guardate che carina la cover di Demelza È di Blond Amsterdam, quel marco che mi piace tantissimo Yeah, I can recognize the style Yeah It's so cool, I want one Bellissima Super carina Non so se lo sapete, ma qui il tè Alla pesca e al limone Is this lemon or peach? Peach Oh peach I love peach Ma qui Ma qui è frizzante È frizzante È frizzante È stranissimo Se voi ordinate un tè alla pesca Un tè al limone in Olanda Ve lo portano sempre frizzante Finalmente è arrivato il sushi Tomas non ha preso sushi Ma noi sì È fichissimo perché qui si può ordinare con l'ipad E c'è un ipad C'è un ipad su ogni tavolo On every table And then you just order like this Quindi si manda l'ordine Quindi praticamente tu vieni Non devi nemmeno parlare con i camerieri Perché ordini tutto tu Dall'ipad Bevande Cibo E tutto quanto dall'ipad Ok siamo molto sazi Non ce la facciamo più Siamo molto pieni Ma ancora abbiamo comprato alcune cose Ma... Sì 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 Io invece ho preso ancora una miso soup Una... sì Una miso... Zuppa Miso insomma Non so come si chiama in italiano Mi piace troppo che ci sia il logo della ragazzina Della bambina giapponesina Su tutte le cose qua Quindi questa è la mia... Oh oh Se riesco ad aprirla Ok Questa è la mia miso soup E poi ho ordinato ancora un paio di salmoni Di nigiri con il salmone affumicato Che mi piace tantissimo E poi basta Mi ho mangiato un sacco Veramente un sacco Siamo tornati a casa E Tomasca è innamorato dei gatti di Demelza Oh Sir Milo I will let you pet me Ma solo per un secondo Tu stupido uomo Sì Ciao Ciao Sì Sono un po' bianco Tutto rosso e un po' bianco Tutto rosso e un po' bianco Sono molto belli I know I'm beautiful E' solo tanto Come si chiama? Too sexy for you Come si chiama questa ragazza? Non è una ragazza Sono gatti europei Ah sì? Sì Ma sono entrambi dello stesso colore Perché sono fratelli E Micah è lì Sul divano Sul mio cuscino Sulla tua vestaglia Hello Little Micah Little Micah I love you 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 Micah Amm 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 No schifoso Comunque io vi avvisate quindi se non siete impressionabili guardate altrimenti saltate dalla parte successiva. Stiamo di nuovo giocando a resident evil 7 e adesso sta giocando de mesa con la vr Io ci ho provato ma Ci ho provato ma ci ho provato ma non sono riuscita ad uccidere questo tizio e quindi si sta provando lei che è molto più brava di me Go de mesa Go de mesa Nice, yeah go in go in Nice Look at her Regroup, it's still flickering Ok è davvero inquietante ma E' fichissimo sto gioco Nice Nice The Milesa Very nice Ok riparina Dammit He got me He got me He got me Turn on the engine Yeah, yeah Doing it Well done Ok Yeah, now you can go No, no, no Wait No? Ok He will charge here Kick Nice The Milesa Ah He blocked me Kick Mother Nice wow la mezza you're scarily good at this oh yeah you're almost there you're almost at the end I can't believe it at the end you can kill him yeah yeah because he's angry you're killing him no no you can do it the mess that you were almost there you were almost there you almost killed him now I had him a lot faster so that's good yeah because he gets mad yeah but now he doesn't have that much time to hurt me yeah so okay now you can do it the guy is coming from the back I wanted to try and shoot him but I couldn't here you go what why is he not shooting yep nice two three four reload reload and run you think you're going to hurt me yep one more time yes exactly okay wait because he's going to get the chainsaw okay one more time okay we are going to follow the trip we're going on for tomorrow we are going to have to take care of them we are going to have to take care of it we are going to have to take care of them Beh vabbè senti lo so Cosa ci posso fare io ti avevo avvisato Qua piove ogni giorno Vabbè ma scusa Invece adesso si va da un'altra parte Dove? No vabbè prima Andiamo a casa per Per due giorni andiamo a casa Esatto Invece poi ci Spediamo Alle Maldive Evviva Per il nostro Viaggio di nozze Sì che bello Sono contentissima quindi praticamente Passeremo dalla pioggia torrenziale E il freddo gelido A caldo Tropicale Comunque non è che sia Freddo gelido Non fa mai freddo Tanto caldo Tomas è come le donne in meno pausa che hanno le vampate di calore Vabbè Tomas è di poche parole oggi Comunque è meglio che mi metta A fare il check in Perché poi dobbiamo avere Il biglietto elettronico Nel cellulare Dopodichè finisco le valigie E basta Ragazzi ragazze Noi stiamo per andare a nanna È già tardissimo E devo ancora finire le ultime cose nella valigia Ovviamente Non siamo riusciti a far stare tutto nella valigia Perché qualcuno Ha fatto troppo shopping E non abbiamo più spazio Qualcuno Non sono io Comunque Adesso Sì niente Finisco la valigia Andiamo a nanna Volevo in realtà filmare un po' nel bagno Mentre mi strucco Come faccio di solito Alla fine dei video Però siccome Si sono appena trasferite in casa nuova E il bagno è grande C'è tipo un eco Quindi Mi seccava a fare troppo casino Perché non so se stanno già dormendo Oppure no Quindi niente Questo è tutto per oggi Io vi mando un bacione Vi do le buonanotte E noi ci vediamo Aspetta questo video Che giorno è oggi? Questo video lo vedrete giovedì Quindi noi ci vediamo domani Che è venerdì Con un nuovo video Ciao Puppetto vuoi salutare anche tu Ciao Ciao